Sono Maurizia Loisio, responsabile dell'archivio biblioteca Margherita Ferro, che si trova in via Cairoli al numero 14 interno 6, accanto all'ingresso del centro per non subire violenza da Udi. La biblioteca stessa è gestita da volontarie dell'Udi, Unione Donne in Italia, ed è stata dedicata a Margherita Ferro, dirigente dell'Udi, che per prima iniziò a raccogliere volumi e periodici scritti da donne o che trattavano tematiche di genere. È nata così una biblioteca specializzata, che attualmente raccoglie circa 6.000 volumi di opere di saggistica e narrativa, e oltre ad una nutrita e meroteca. La nostra consueta attività di prestito libri, presentazioni, incontri e seminari si è bruscamente interrotta nel periodo del lockdown. Abbiamo però cercato di mantenere contatti con le amiche che abitualmente ci seguono sulla pagina Facebook della biblioteca e dell'Udi, aderendo ad una maratona lotteraria patrocinata dalla Compagnia di San Paolo e organizzata dalla Cooperativa Sociale Mignanego e dal Centro Antiviolenza Pandora. Le letture sono iniziate il 4 aprile e terminate ai primi di giugno e sono state seguite da migliaia di persone. Una trentina di amiche si sono prestati a leggere brani di narrativa o poesia sugli argomenti più vari. Alcune hanno offerto letture in lingua. Abbiamo avuto modo di far conoscere anche alcuni testi che avremmo voluto presentare come L'ombra di Perseo di Daniela Mencarelli Hoffman. Altre autrici hanno partecipato come Deborah Riccelli, Caterina Grisanzio, Margherita Massari, Paola Cordiviola, Carla Corsucci e Clara Crovetto. I vari interventi hanno proposto alcuni brani noti o anche poco conosciuti di autrici del secolo scorso come Alcott e Wolff o anche recenti e recentissimi. Grazie all'aiuto delle amiche più esperte i video sono stati caricati sulla pagina facebook della biblioteca e su un canale youtube dedicato Udi Genova. Dopo la pausa estiva la biblioteca riprenderà le attività sempre osservando le norme anti covid il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19 e su appuntamento le mattine di martedì giovedì o venerdì.